La battaglia comincia! Atteno ordini, chiudo! Atteno ordini, chiudo! Atteno ordini, chiudo! Forza enemica in vista! E che chianti! Ko c'è gol! Grazie a tutti. 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 Abbiamo affondato un cacciatorpediniere nemico. Grazie a tutti. Grazie a tutti. In avvicinamento al bersaglio. In avvicinamento al bersaglio. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Problema risolto, signore. Corazzata nemica affondata. Grazie a tutti. Grazie a tutti. In avvicinamento al bersaglio. Inganciamo il nemico. Inganciamo il nemico. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Abbiamo distrutto. Abbiamo distrutto una corzata nemica. Grazie a tutti. 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 In avvicinamento al bersaglio. Caccia ai voli. In avvicinamento al bersaglio. 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 In avvicinamento al bersaglio.